Presentate le iniziative per la festa del patrono di Pescara San Cetteo che si terranno nel weekend fino al 10 ottobre. Si torna all'antico con la processione che partirà dalla cattedrale e che prenderà il posto di quella sul fiume. Per quest'anno abbiamo pensato di fare così, non facciamo la processione sul fiume, ma riprendiamo la vecchia processione che parte da San Cetteo, il ponte d'annunzio, il cinema massimo, poi ci fermiamo sul ponte di sorgimento per la preghiera e la benedizione, l'intercessione di San Cetteo da parte del Vescovo per la città e per la diocesi e poi arriviamo a San Cetteo. Ci sarà il pontificale dopo la processione che viene anche il segretario di Stato, il segretario del segretario che è l'arcivescovo, il signor Edgar Peña, che è venezuelano, viene a celebrare con noi, con i sacerdoti, i canonci, i fedeli, l'arcivescovo eccetera. Nutrito anche il programma civile dei festeggiamenti che saranno chiusi dal concerto della banda della città di Termoli. Abbiamo pensato di fare tre sere, a cominciare da domenica a sera, lo facciamo vicino alla cattedrale quest'anno, a Piazza Garibaldi. Due serate, diciamo musica degli anni 70-80, poi c'è Don Antonio che ha una band fortissima dei nostri giovani che hanno un tema molto gradito, l'hanno detto a tante persone, dice noi veniamo a sentire perché ci piace e poi concludiamo con la sera di San Cetteo, con la processione della banda città di Termoli e poi la serata proprio in musica classica. Se per caso piove lo facciamo in cattedrale la musica classica. Grazie.